Buon pomeriggio, ben trovati in diretta dalla redazione di Telebari. In primo piano la sanità nasce nel Policlinico di Bari, il nuovo centro di senologia multidisciplinare. Sono 13 unità operative per migliorare l'assistenza alle donne con tumore al seno. Ci dice tutto Roberto Maggi. Un nuovo modello organizzativo per assistere le donne con patologia mammaria, un team multidisciplinare altamente specializzato per il carcinoma alla mammella. Parte ufficialmente la Breast Care Unit del Policlinico di Bari, il centro di senologia che costituisce un percorso assistenziale che si prende in carico la donna con tumore al seno, accompagnandola in tutti i passaggi e le cure necessarie, dalla fase di screening alla gestione della riabilitazione. I dati presentati dalla dottoressa Lucia Bisceglia del registro tumore e del resto possono far capire quanto sia importante un'assistenza il più possibile vicina alla paziente. Sono infatti 2.700 in Puglia i nuovi casi di tumore al seno diagnosticati ogni anno. 720 pazienti purtroppo non ce la fanno, ma per contro ci sono 50.000 donne ancora in vita in tutta la regione a cui è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Importante dunque lavorare sulla prevenzione, sia in caso di familiarità che di sintomatologia sospetta. L'infermiera di senologia è a disposizione ogni mattina al Policlinico, dal lunedì al venerdì, anche al numero 085 59 29 12. A spiegarlo è stata la dottoressa Elita Giardina, responsabile della Breast Care Unit. Prima si parlava di tanti specialisti però isolati, l'uno dall'altro, che al massimo comunicavano grazie alla loro buona volontà. Adesso questi collegamenti sono istituzionalizzati. L'infermiera di senologia provvede a mettere in rete, in un certo senso, ad aiutare la donna anche nel trovare i vari specialisti, le varie strutture a cui rivolgersi. E torniamo sul caso Interporto. Il progetto di ampliamento parte da lontano, ma resta ancora un nulla di fatto. Da oggi ripercorriamo le tappe più significative di questa infrastruttura, partendo proprio dal passato. Ecco il primo capitolo di questa lunga storia. L'opera di ampliamento dell'Interporto di Bari resta un'eterna incompiuta. Tempi infiniti e una complicata, ma tassa burocratica e giudiziaria hanno impedito, fino ad oggi, che quel progetto vedesse la luce. L'infrastruttura esistente è solo una piccola porzione del grande progetto, che, sempre se sarà realizzato, doterà il capoluogo di un vero e proprio hub internazionale in grado di gareggiare con i più grandi scali europei. Al momento, però, l'unica certezza è l'eterno ritardo e il ritiro dei finanziamenti europei da parte della Regione. Per ripercorrere la lunghissima storia dell'Interporto, bisogna fare un salto indietro di 28 anni. È precisamente nel 1990, quando si costituisce la società IRP-SPA, che fa capo a Davide De Gennaro, che avvia lo studio di fattibilità per l'insediamento dell'infrastruttura interportuale in località Lamasinata. Inserito nel piano quinquennale degli interporti, il progetto è articolato in due step, una prima fase e una seconda di completamento. Oltre all'opera, erano stati previsti anche i collegamenti per garantire l'intermodalità, ovvero l'asse di collegamento tra la Statale 16 e la zona industriale. Per la realizzazione della prima fase, la IRP-SPA ha beneficiato di oltre 71 milioni di euro di fondi pubblici, ministeriali e regionali. La seconda fase invece resta il palo, ma la storia continua. E siamo alla cronaca Bari al setaccio, controlli antidroga sul lungomare e al Libertà. Arrestati sei spacciatori. Si spaccia ovunque, nei giardini, davanti alle scuole, nei bar e nei locali della Movida. La richiesta di droghe cosiddette leggere, ascisce marijuana, è in aumento. Tra i giovanissimi la conferma arriva dal numero di sequestri che le forze dell'ordine quotidianamente effettuano sulle piazze cittadine. Soltanto ieri ad uno studente di 17 anni sono state sequestrate 124 bustine di marijuana. Parte della droga era nascosta nello zaino e pronta per essere spacciata. L'ultimo blizzo al quartiere Libertà, dove sono stati arrestati due conviventi di 33 e 40 anni, avevano 14 grammi di cocaina e 8 di hashish. Sul lungomare, arrestato migrante originario della Guinea a 32 anni, nascondeva in una fioriera una busta di cellofan con 44 grammi di hashish suddivisi in 12 dosi, pronte per lo spaccio. E sempre sul lungomare, precisamente al Molo San Nicola, sono stati arrestati tre cittadini somali beccati mentre cedevano una dose di marijuana a un ragazzo della provincia di Potenza. Dalle perquisizioni sono spuntati altri 38 grammi della stessa sostanza pronta per essere smerciata. Tutti e tre sono finiti agli arresti domiciliari. Voltiamo pagina. La prima spiaggia è pronta ad annunciare l'imminente apertura ai baresi del primo tratto di spiaggia del Waterfront di San Girolamo. Il sindaco Antonio De Caro, che oggi ha fatto un sopralluogo. In questo video le sue dichiarazioni. Sentiamo. Come avevo promesso, sono tornato a fare un ulteriore sopralluogo a San Girolamo. Sul Waterfront avevamo detto che le due spiagge sarebbero state ultimate. A giugno la prima è stata già ultimata. Sono finiti i lavori con largo anticipo. Il camion in fondo, la pala gommata, sta completando delle piccole rifiniture. Ma stamattina la prima spiaggia di San Girolamo finisce. Abbiamo iniziato già a posizionare i ciotoli sulla seconda spiaggia, dalla parte opposta per la parte a sud. E lunedì l'Anquedotto Cugliese comincia i lavori che erano previsti da diverso tempo per alzare i tombini, in modo che potremmo innalzare la strada all'altezza dell'equatore. Questa spiaggia tra qualche giorno sarà già fluibile. E' terminata questi piccoli completamente. Dalla prossima settimana sarà realizzata tutta la barca a terra. Quindi saranno ultimati i lavori sia delle aree pedonali sia della pista ciclabile. Quindi tra qualche giorno si potrà venire qui a San Girolamo per fare il bagno sulla prima spiaggia ultimata. E arriva a Bari Capitano Acciaio, il supereroe che insegna il valore della raccolta differenziata. Vediamo. Oggi consegniamo alla città, nella figura dell'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli, questo premio. E' il supereroe Capitano Acciaio con le proprie mani a consegnare all'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli la statuetta in alluminio per l'impegno mostrato nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Un gesto di gratitudine che il Consorzio Nazionale Ricrea ha voluto mostrare a tutti i baresi che hanno contribuito alla raccolta del metallo portando ad un risultato che sfiora il più 16%. Nel 2017 Bari ha raccolto 255 tonnellate di imballaggi in acciaio. Naturalmente non è il traguardo finale perché dobbiamo e possiamo ancora crescere. Una fontanella, una panchina, una bicicletta, tutti oggetti realizzati con il riciclo di barattoli, scatolette, lattine e bombolette, perfino il gigante in alluminio che dominerà Piazza della Libertà fino a domenica quando il viaggio del Consorzio Ricrea prosegue verso altre città ad insegnare le buone pratiche della raccolta differenziata dell'acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Il nostro Consorzio Ricrea si occupa di avviare al riciclo gli imballaggi in acciaio e in Puglia abbiamo avuto dei buoni risultati quest'anno, un più 11% sulla raccolta e nello specifico la città di Bari segna un più 16%. La raccolta degli imballaggi metallici è molto semplice, ciascun comune, detta le regole, quindi a Bari si fa nel sacchetto giallo. All'interno del sacchetto giallo mettete gli imballaggi metallici assieme alla plastica e poi noi ci occupiamo di avviare il riciclo tramite l'acciaieria. E anche la cooperativa Un Solo Mondo di Bari partecipa alla giornata mondiale del commercio equo e solidale. Questa mattina colazione comunitaria in via Pavoncelli, in occasione anche per raccontare, chilometro vero, il progetto che la cooperativa sta portando avanti da due anni, in collaborazione con Aps Farina 080 Onlus, su una nuova visione della filiera alimentare che va oltre il chilometro zero. E il presidente dell'Associazione Elettrosensibili è venuto a Bari per parlare di elettrosmog e inquinamento da onde elettromagnetiche. Ascoltiamo l'intervista realizzata per noi da Roberto Maggi. Elettrosmog, sono tante le fonti che non conosciamo e che ignoriamo. Quanto dobbiamo avere paura e temere l'elettrosmog? Fin negli anni 50-60 abbiamo già avuto segnalazioni importanti di danni alla salute, causati soprattutto in militari dell'ex Unione Sovietica, sia in ambito dei paesi nordamericani, che manifestavano sintomi correlati all'utilizzo dei sistemi radar. Via via, poi con la diffusione dei sistemi di diffusione, in particolare wireless, come ho detto in precedenza, il numero di persone che manifestano sintomi collegati all'inquinamento elettromagnetico sono aumentate in maniera esponenziale, a tal punto che oggi possiamo dire che almeno il 3% della popolazione, per esempio in Italia, può essere definita come elettrosensibile. C'è una capacità di avvertire la presenza in un campo elettromagnetico in grado di indurre dei sintomi anche molto invalidanti. Qual è la strada da seguire? Qual è la soluzione che si può trovare, considerato che è difficile oggi poter rinunciare alla tecnologia? La strada da seguire è quella che si basa sul principio di precauzione e sull'applicazione appunto della prevenzione primaria. Dobbiamo ridurre in maniera significativa i rischi espositivi, in modo particolare per le categorie più esposte a queste radiazioni, che sono i bambini, i pre-adolescenti, i giovani e le donne incinte. E siamo allo sport, il sogno è quello di volare in Brasile per conoscere personalmente la stella del Paris Saint-Germain, Neymar Junior. Per questo oltre 250 ragazzi si sfidano in un torneo di calcio a 5, che porta il nome del campione organizzato da Red Bull, che fa oggi tappa a Bari il campo da calcio, e quello del centro sportivo di Cagno a Brescia. Ed era l'ultima notizia, l'informazione di Telebar ritorna questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, a tutti un buon proseguimento di giornata. Amici tra i bimeto, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che attenzione vedrà l'arrivo di una nuova perturbazione sul nord Italia e anche la pressione atmosferica torna a diminuire sul nostro paese. In effetti, guardate, tornano parecchie nubi, nuvolosità che insisterà soprattutto nelle regioni settentrionali, dapprima su quelle di nord ovest, ma poi piano piano queste nuvole si estenderanno anche su parte del nord-est e raggiungeranno anche le regioni del medio alto Tireno. Però nuvolosità, come vedete, non particolarmente compatta. Come precipitazioni però dobbiamo segnalare il ritorno di qualche piovasco, dapprima al nord ovest, poi anche al nord-est. E attenzione, temperature in calo al punto che tornerà anche un po' di neve sulle Alpi centro-occidentali, nevicate oltre ai 1700-1800 metri, per il resto però appunto più che altro piogge e acquazzoni che tornano all'orda, in forma però sparsa, cioè spesso di breve durata, alternati anche a delle pause. Poi verso fine giornata peggiora anche nell'Italia centrale. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle singole località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.